1, 2, 3... Signore, sono vent'anni che lavorate in questa azienda e non vi ricordate che il mio compleanno è fra due mesi? Sono deluso da tutti voi. Capo... Shhh! Questa azienda è importante... Capo, la posso interrompere? Che c'è Davide? Dimmi, dimmi. In effetti sarebbe l'anniversario dei vent'anni dell'azienda. Anniversario? Vent'anni? Non era ieri e oggi? Eh sì. Bello. Festeggiamo, festeggiamo! No! 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 No!